E così lo possiamo chiamare, però nonostante le due defezioni, diciamo che è una squadra super competitiva. Buato, clamoroso. Ha segnato l'Inter, ha segnato l'Inter, ha segnato l'Inter, forza Napoli! Le segneremo dopo, vienimi! Siamo in diretta, ha segnato l'Inter, ha segnato, vieno va, vieno va! E' arrivato l'Inter, ha segnato l'Inter, minuto 78 sul cronometro, è arrivato l'Inter con Gosens, che ha servito Lukaku dentro per Lautaro Martinez, il paleggio dell'Inter! Marco ha segnato il toro! Ha segnato Lautaro Martinez, l'argentino che può regolare lo scelto! Esatto, e tutto torna, si chiuderà il cerchio, un argentino che ci farà vincere matematicamente oggi lo scudetto! Ha segnato Lautaro Martinez! E' arrivato, è arrivato, grazie Lautaro! Grazie! Mancano 12 minuti, 12 minuti! Forza it! Forza it! Ha segnato la pace! Abito di scampino! Bilo! Goal! 11 minuti! Mamma mia! C'è, mancano 11 minuti! Siamo qui, facci sentire la cosa!